Dopo la lieve impennata sulla curva epidemiologica, torna una situazione di relativa calma in centro Abruzzo, in particolare in Valle Peligna, ma il virus si annida tra i banchi. E di quattro nuovi casi, altre tre classi in quarantena, il bilancio del coronavirus per la giornata del 15 maggio. Tre casi sono stati accertati a Cassel di Sangro, di cui due minori di 10 e 13 anni. Un altro contagio riguarda entro d'acqua, ovvero uno studente di 18 anni, contatto stretto dell'ultimo caso accertato in Paese. Per questo l'Ufficio Igiene e Prevenzione Asla proceduto ad attivare la quarantena con il relativo monitoraggio sanitario per una classe terza della media di Cassel di Sangro, una classe quinta della primaria di Cassel di Sangro e una classe quinta dell'ITIS di Prato-La Peligna. Salgono così ad otto le classi attualmente sorvegliate con la seguente mappa, tre sul Mona, tre Prato-La Peligna e due Castel di Sangro. Domani potrebbe chiudersi la quarantena con esito favorevole per una classe dell'ITIS che arriva al 14esimo giorno di monitoraggio sanitario. I contagi accertati nelle scuole fanno riferimento in realtà ai rispettivi nuclei familiari, per cui l'ambiente scolastico resta coinvolto indirettamente in questa fase dell'emergenza e il virus, grazie al sistema di tracciamento e prevenzione, resta abbastanza contenuto tra i banchi. Ma sicuramente il numero delle classi in quarantena è un campanello d'allarme per rafforzare l'esercizio della prudenza dentro e soprattutto fuori la scuola, dove l'emergenza sembra per certi versi terminata. Sono 106 le attuali positivi in centro Abruzzo, di cui 51 domiciliati a Sulmona. Nella Valle Peligna sono 20 pazienti covid ricoverati, di cui uno in terapia intensiva, mentre in alto sangro resta in ospedale solo un paziente. Oggi sarà trasferita nella clinica San Raffaele, una donna di mezza età di Sulmona positiva ad alcuni giorni. La buona notizia arriva invece per una 68enne di Sulmona, che ha negativizzato in queste ore, dove aver occupato finora il posto di pressione negativa del reparto di rianimazione. Per gli strascichi del covid viene quindi tenuta in osservazione nel reparto di medicina. Ho trovato una grande professionalità da parte del primario Vincenzo Paci del personale sanitario. Le eccellenze bisogna riconoscere e valorizzarle, commentano i familiari della donna che ringraziano il reparto. Infine, dopo la rivolta per il rinvio delle seconde dosi, oggi tornano le prove di normalità per la campagna vaccinale. Sono oltre 600 le dosi programmate per l'inoculazione nell'area Peligno-Sangrina. Numeri nella media, anche se c'è sempre da sperare per un'accelerata.